Grazie a tutti. Di aziende che si sono quotate su questo segmento di mercato, di interesse che ha generato, di aziende che oggi capitalizzano quasi 7 miliardi di Euro e che impiegano 18 mila persone. Quindi sicuramente è per noi un motivo di grande soddisfazione l'interesse che anche gli investitori rivolgono a questo segmento di mercato. Oggi abbiamo 350 incontri one to one che si stanno svolgendo al piano di sopra mentre noi siamo qui a chiacchierare e credo che questo sia un segnale molto positivo.